Ci troviamo a Volterra in via Domizoni 30, all'Avena Divino. Questo locale rispecchia l'anima dei volterani originali. È un luogo spartano senza etichetta, una delle mete preferite non solo dai turisti, ma specialmente da chi a Volterra ci vive. È un locale dove sentirsi a casa, dove mangiare salumi e piatti toscani e bere dell'ottimo vino in compagnia di amici. L'interno del locale è veramente molto caratteristico, con centinaia di reggisene appese al soffitto e vecchie insegni. Insomma, all'Avena Divino si possono trascorrere veramente ore piacevoli. All'Avena Divino è possibile bere l'assenzio, liquore amato dai poeti maledetti dell'Ottocento. È possibile anche bere altri liquori e distillati rari vintage. Grazie a tutti.